eh no eh d'altronde è 50 metri 200 quanto saranno no no li prendi da meretta col virino li prendi è uscito sul davanti o dove è andato sul cadavere di quello? no 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 è tornato dentro la parte sinistra hanno chiuso stanno dietro stanno dietro sono fuori vicino alla casa allora tu spara io ammazzane uno l'altro di sicuro andrà andrà dietro e poi lo becco io non ho una linea di rubone eh beh vai a colpo sicuro si muovono si muovono vanno sempre dietro sempre dietro ok ne vedo ne vedo uno vedevo quello con lo zaino rosso ok io vedo quell'altro vedevo quello con lo zaino blu ma dietro cioè a fianco dove ho ammazzato il tizio tra la casa e dove ho ammazzato il tizio perché io sono da sinistra cioè all'entrata a sinistra dove la vedevamo noi secco secco il secondo bravo potevi anche dirmelo scusa il terzo è dentro si lo so lo vedo è morto andiamo a controllare che non si alzino oh c'è un altro dov'è l'altro 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 scappa nel campo campo da che parte fatto secco a terra anche l'ultimo tutti e quattro ottimo chi è quello sei tu quello là in piedi salto ok calma vicino occhio è che magari ho visto male ok ok andiamo a controllare che quelli non si rialzino questo qua che cazzo c'è vieni 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 qua dentro c'è un cadavere qua dentro ce n'è un altro l'altro siamo a quota quattro non si è un posto oh mantenete qualcosa per me oh vieni è pieno di roba qui credo di armi di armi ciò fu una pistola e un bk si ma muoviti spesi sto arrivando dammi tempo cazzo sono quasi a cernaya polana via colpi per il mosin io qua non ne vedo radio ha continuato a scrivere un'altra volta no no non è lui ma perchè vuoi controllare i nomi ah in teoria si oh com'è la frequenza raga secondo voi oh raga ah c'è chi d c'è chi identity eh come si chiama marine marini 98 marini no non lo sto scrivendo paura come la frequenza raga sono non mi interessano se cosa sai cosa ho fatto io meno ciò parlo con gli altri maio sto no perchè così dico a ci sono degli sono non si è un bel anno non si è un po' di base loro no costo di qualcuno mi sente costo leggendo ma che c'è qualcuno mi sente ma alla fine c'è una tanta merda il problema è che avevano anche la macchina eh l'avranno nascosta da qualche parte dai oh ok vabbè chi oh li abbiamo stesi tutti quanti guarda quanta roba sto stronzo ah ma tanto questo te l'ho fotto ok anche questi grazie però come sono messi questo anche è che non hanno le cose per depurare un cazzo questo acqua sarà buona o no no però i filtri si fanno con le cose al carbone una bottiglia tagliata no lo so però serve comunque la la pastiglia qua c'è il compensatore per il moso bella telemetro dirò su è sempre utile lascio le cartine non ci faccio un cazzo quelle cartine compensatore eccolo compensatore mousin io cad avrete questo non riesco a guardarlo ah eccolo ho già vedere c'è altri sette colpi che mi prendo molto volentieri si vincitore per pistola che non mi faccio un cazzo filtro improvvisato compressa a carbone batteria che fa sempre comodo che è morto spada laser oh compagno ho sentito la tua ah di più compresse il cloro questo glielo prendo vado a vedere quell'altro stronzo fa fuori cintura tattica grazie scarpare l'assalto rotto chietto che sono le sangue telematiche perché non è mmm mmm O che cazzo è? Iron flash light Boh, non ne ho idea Ah c'ha due pentoroni sti qua, quasi Quasi Tu ce l'hai una pentola? Ce l'ho due, sì Auro Il giubbotto d'assalto Va sotto la Il coso Il giubbotto di proiettile Scrive Tiger Di questo casa andiamo a svuotarci la tenda ritorni alla casa stai ritornando alla casa ma c'è acqua c'è un altro non lo so magari l'ha ucciso te non so vicino alla casa io bai che rovesto si si io lo secado io bambina allenatore mio non può chiamare questo bravo se ti proviamo a mandare a nuovo gippine marlac se ci metto tempo porca troia a salire quanto ci metti dai adesso sto salendo ma bisogna di tempo mica sono due cazzo di passi per avvenire a voi poi considerando che mi do fermare sembra a bere se tu che sarai se cazzo vaffanculo ti chiudo dentro uh ce l'hai chiudi il mandello ce l'hai noi gli chiudiamo la casa a chiave ok cazzo di pezzi di stronti che siete ma ho capito questa guerra pure non lo can non la vento pettino niente 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 mamma mia, sempre, sempre sulla teglia si, mi sa che si, hai due due parti eh c'è c'è no, hai sentito tutte le porte ah, è vero grazie cosa succede? io ho perso una giacca fino a dirò, con due pentole dentro, no, con la pentola dentro buongiorno ok, fatto buongiorno, dai, andiamo a nuovo, dai andiamo a nuovo però prima di andare, entrare nella cosa, andiamo nel canale di discord e quelle lì, chiediamo se non vogliono che ci ammazzino, cos'è perché ragazzi, che ci sta a nuovo, fatemi capire c'è una fazione ah sì un conseguente trader dai, facciamo la, finiamo di fare i bastardi e scriviamo come si chiamava buongiorno ah, gli altri nomi non l'ho controllato buongiorno 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 ti abitiamo a bellaia polana e sento un sacco di spari che succede a bellaia polana, sento un sacco di spari che? abbiamo ammassato quattro contro due, abbiamo ammassato tutti bellaia polana, com'è che è? polaia polanal belana? bellaia con la y in una finale bellaia polana belanal polanal ci hanno regalato le loro anime e ci ha detto il loot senti guarda ok vorrei ringraziare sicuramente coloro che a bellaia polana ci hanno regalato le loro anime e il loot ok, giustizia è fatta cara uck 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 quartano quant' c'è? ma un merda Merda Ti hanno ucciso anche te A terra è morto Guarda te Guarda la mappa un secondo Sperando di non riportare No cazzo ce n'è un altro Ma quanti sono Cazzo Fanculo Avete cantato vittorio No Fanculo ne è un porco dio Una mazza di 50 L'ultimo mi ha steccato come una fucilata Minchia abbiamo persato i piedi a una gelda Evidentemente Eh si ma ne erano tanti Vado ad andare dalla raga Eh no ma vai Mi ha ammasso uno in piedi Era un mezzo fresh con un fucile a pompa Dio cane Mi sono fatto ammazzare da un fresh con un fucile a pompa No ma sempre a elettro mi fa sponare No ma sempre a l'ultimo mi fa sponare da un fucile a pompa No ma sempre a l'ultimo mi fa sponare da un fucile a pompa